E' stato reso noto il programma della decima edizione del Dorothy Dream Day previsto mercoledì 10 luglio alle 17.30 nella nuova location del convento di San Francesco a Policastro Bussentino. L'evento è organizzato dai genitori di Maria Dorotea Di Sia, morta a 25 anni in un incidente stradale in Puglia nel 2014 dall'associazione Dorothy Dream, presieduta da Pietrina Paladino, la mamma di Dorotea, con la collaborazione degli amici di Dorotea, il patrocinio del comune di Santa Marina e la direzione artistica per il secondo anno consecutivo di Carmine Sabatella, scultore e ricercatore artistico. La manifestazione prenderà il via con il convegno sulla sicurezza stradale sulle vittime della strada dal titolo Il profumo della memoria nel fiore il colore della vita. Diverse le personalità che hanno aderito all'evento, tra cui i consiglieri regionali Corrado Matera e Tommaso Pellegrino, i sindaci di Santa Marina, San Giovanni Appiro, Torraca, Vibonati, Morigerati, Auletta e di Sala Consilina, il consigliere provinciale Pasquale Sorrentino, il presidente della provincia di Salerno, Franco Alfieri, il dirigente scolastico dell'istituto Da Vinci di Sapri e diversi giornalisti, blogger e scrittori. Ospiti del convegno saranno invece il pilota campione del mondo 2023 nel Gran Turismo Endurance Sabatino di Mare e il cantante Totino Melillo, salito alla ribalta per aver rintonato nel 2020 all'ospedale Curto di Polla, una canzone di Massimo Ranieri assieme al chirurgo che lo stava operando. Dopo il convegno è prevista la presentazione degli scatti partecipanti al contest fotografico che guarda il bello e divulga l'educazione stradale. Ci sarà la premiazione del vincitore del concorso. La serata poi proseguirà all'insegna della musica con il duo composto da Emanuele Montesano e Giosef Bruno e poi Pino Castelluccio Massaro, in chiusura la liberazione in aria di tanti palloncini in ricordo di Doroti e delle altre giovani vittime della strada.